Alfrezzon con il sinistro da fuori, palla rituta, non è finita ancora Alfrezzon, d'antiene il possesso la Virtus di Verona, palla per Lonardi, la palla al centro per Danti, col destro! Domenico Danti cambia il punteggio al Gavagnino Cini quando siamo all'undicesimo della ripresa, Domenico Danti, Virtus Verona 1, l'eco zero, il gol del capitano, il gol di Domenico Danti. Che sale a 5 reti in campionato per lui, 1 a 0, una polgia al Gavagnino Cini, era nell'aria il gol della Virtus.